prendi fuffi per esempio gli basta un po' di musica e si addormenta come un giro non dovevo dirvelo peetton è già stato qui ha fatto un incantesimo all'arpa non vi sembra troppo silenzioso? l'arpa ha smesso di suonare saltate via! per fortuna che c'è questa specie di pianta questo è il tranello del diavolo dovete stare calmi altrimenti vi ucciderà più in fretta lumos solem per fortuna eravamo calmi ci saranno migliaia di chiavi lassù a noi ne serve una grossa di vecchio tipo forse arrugginita come la maniglia eccola la vedo quella con l'ara spezzata prendila ron non vorrei dirci che sarà come giocare veramente agli scacchi dei maghi o si? d5 si ermione credo che questo sarà esattamente come gli scacchi dei maghi una volta fatta la mia mossa la regina mi mangerà così voi darete scacco matto al re cavallo in h3 ron no scacco matto andrà tutto bene Harry sei un grande mago non quanto te non quanto te io furbizia e tanti libri ci sono cose più importanti amicizia e coraggio Harry fa attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti